E' stato accolto dall'assessore alla comunicazione del comune di Cosenza, Rosaria Succur, l'83enne Alessandro Belliere di Bologna che sta attraversando l'Italia a piedi. 6.000 km da Aosta a Palermo dove arriverà proprio nel giorno del suo compleanno il 24 ottobre attraversando tutte le regioni e toccando 110 comuni. Sono partito il 2 di aprile da Aosta, ho visitato quasi tutte le 113 città capoluogo di provincia e arriverò a Palermo esattamente il 24 di ottobre. Con questa ultima impresa Alessandro Belliere vuole trasmettere un messaggio soprattutto ai giovani, quello di mettere da parte il tablet, lo smartphone e fare sport. Ad accompagnarlo all'interno di Palazzo dei Bruzzi una rappresentanza dei paracadutisti della sezione di Cosenza guidata dal vicepresidente Ferruccio Caruso. Esattamente sono 4 anni che faccio queste sfide, tant'è vero che quando terminerò questa camminata avrò percorso sul territorio nazionale ben 15.000 km a piedi e io conosco ogni angolo della nostra bellissima Italia. Una persona che ormai nonostante la sua età, 83 anni, attraverserà tutta l'Italia. Questa testimonianza che quando si ha forza nello spirito e nel corpo davvero si possono affrontare delle imprese, come anche quella di camminare e passeggiare per tutta l'Italia e arrivare, come ci dice lui, per il giorno del suo compleanno a Palermo, la sua città natale.